abbiamo con noi il reporter ufficiale del Mib Trestino oggi è stata l'ultima partita in casa facci un commento su questa stagione alti e bassi e bassi alti secondo te riusciremo ad apporare ai playoff oppure no? eh sto a vedere bisogna avere un po' di fortuna c'erano tanti fattori che devono concatenarsi ma al di là di questo ce lo meriteremo oppure no? eh sì e no in certe situazioni sì e in certe situazioni no va bene ci vediamo a Monteluce